La passione di Gesù Cristo di padre Gaetano da Bergamo 22 novembre Gesù crocefisso in mezzo a due ladri Punto primo Nella legge antica la vittima sacrificata doveva essere sollevata in un gesto di offerta all'Altissimo Questo si fa anche con Gesù, vittima d'amore per noi I carnefici trascinano la croce fino al buco in cui la base deve essere fatta scivolare e poi fissata La innalzano a poco a poco fino a quando è ben diritta E poi la lasciano cadere di piombo in un colpo solo nel buco Il corpo straziato di Gesù riceve uno strappo violento Tutte le membra si scuotono Le giunture si strappano e le piaghe si riaprono con dolori talmente acuti Che per poco anche questa volta Gesù non muore Riflessione Gesù stesso aveva predetto tutto questo Ricordando la nota raffigurazione simbolica del serpente di bronzo Innalzato da Mosè su di un palo Per garantire la vita ai giudei che erano stati morsi dai serpenti In questo stesso modo egli sarebbe stato innalzato in croce Per dare ai fratelli quella vera vita che il serpente infernale aveva tolto loro Il crocifisso quindi non è affatto un simbolo Ma la realtà ha già da tempo raffigurata Anima mia Contempla Gesù che ha la bocca aperta Gli occhi quasi spenti La faccia livida La carne smunta E il ventre è così contratto da sembrare privo di viscere Non è possibile neppure immaginare quanto debba essere atroce Restare appeso in alto in quel modo Col peso del corpo Sostenuto solo dai chiodi Detesto la mia durezza Che mi impedisce di piangere calde lacrime di compassione davanti a tanto dolore Se gli stessi demoni si arrendono umiliati e vinti da Gesù La mia malizia deve essere più che diabolica Se non si lascia vincere dalla sua immensa bontà Colloquio Gesù crocifisso Sento nel mio cuore la voce delle tue piaghe Che mi supplica di amare chi si è degnato di farsi torturare per me Io vorrei tanto amarti Ma il mio cuore è freddo ed insensibile Feriscilo con uno dei tuoi chiodi Affinché si scuota e riprenda vita Fa riflettere in esso almeno una delle tante ferite cui sei coperto Affinché si commuova e ti offra qualche sospiro carico d'amore Come primo frutto del mio amore vorrei che il mio uomo vecchio Cresciuto nella malizia del peccato Fosse crocifisso con te, mio Gesù Al suo posto dà vita in me all'uomo nuovo Sinceramente pentito di aver offeso il suo dio e deciso a non offenderlo più Solo così il mio cuore potrà sperare di riuscire col tuo aiuto Ad amarti in maniera più profonda e delicata Osrei dire quasi mistica Pratica Inginocchiato ai piedi della croce Pregherò Gesù crocifisso di essere veramente il mio salvatore Concedendomi quell'amore che è indispensabile Per la mia salvezza Per la mia salvezza Per la mia salvezza